Stavolta il segnale dovrebbe essere quello valido, con Phoenix Wise molto veloce alla via che taglia su Player Model, poi Paradisiac, quindi gli altri con Perloax terza posizione alla corda, poi Pocoloco la squalifica che coglie Pathos Ors, intanto Phoenix Wise continua a condurre dopo i primi 200 metri di corsa, cerca ora di moderare l'andatura e il leader arriva Paradisiac al suo esterno per andare a prendere il comando, dato la squalifica che coglie anche il numero 3 Pocoloco, 31 e 2, il passaggio ai 400, Paradisiac che acquisisce il comando delle operazioni quando siamo all'imbocco della seconda curva, Phoenix Wise che è secondo davanti a Player Model, quindi ancora Perloax più indietro il numero 6 di Polinesia che prova a risalire 46 e mezzo, il passaggio ai 600, Paradisiac che conduce sempre nei confronti di Phoenix Wise, gli 800 in 1,2 e mezzo da parte di Paradisiac che comunque mantiene per il momento un ritmo abbastanza tranquillo quando si arriva al chilometro, ora spostato dalla corda, Perloax il chilometro in 1,17 scarsi, con Perloax che va all'esterno di Phoenix Wise al sediolo di Paradisiac, i due in contatto quando siamo a 800 dal traguardo Paradisiac che è costretto quindi a ravvivare il ritmo, intanto è arrivato anche il penalizzato Pacific Model a prendere la schiena di Perloax, più indietro anche il suo compagno di colore, Player Model, c'è un 29,7 per i 400 che vanno dal palo a metà della dritta di fronte, Paradisiac è sempre il leader nei confronti ancora di Phoenix Wise e Perloax, poi i due Model quando siamo al miglio, passato in 2-1 da parte della testa della corsa che continua a avvenare andatura costante, ora Paradisiac entra da leader al comando, indirittura d'arrivo, sposta dalla corda Phoenix Wise che cerca di andare sul leader, Phoenix che attacca a fondo Paradisiac, Phoenix ci prova Ploy, Player Model con Pacific Model nel finale, Paradisiac al comando, Player Model all'esterno, Player Model che viene a concludere nei confronti di Paradisiac, mentre per il terzo sono vicini Phoenix Wise e Pacific Model, andiamo a rivedere gli ultimi metri, più che altro per dividere i due al terzo posto, con tanto Player Model che passa alla scuderia che vince il secondo posto per Paradisiac, per il terzo forse numero 10 Pacific Model riesce a sopravanzare di misura Phoenix Wise, ma il verdetto spetterà al giudice di arrivo.